Può una persona normale trascorrere 30 anni nel deserto? Maddalena quanto pare sì. Secondo la Bibbia, Maria Maddalena è una prostituta pentita del suo passato, che, dopo la crocifissione di Gesù, trascorre 30 anni nel deserto espiando i suoi peccati e diventando la protagonista nell'arte del rinascimento. Le leggende occidentali raccontano che non fosse soggetta ai pericoli del tempo e che a nutrirla nel deserto ci abbiano pensato gli angeli. Per questo motivo la maggior parte degli artisti la ritratta come una bellezza senza età, ma non proprio tutti. Donatello infatti realizza una versione in cui mostra come sarebbe potuta sembrare Maddalena senza alcuna protezione spirituale, con le rughe, vestita di stracci, capelli lunghi e annodati e la sua bocca leggermente aperta per farci vedere i denti mancanti. Per secoli la maggior parte degli artisti rappresenta ancora figure di sante come belle e senza età, ma Donatello cambia le cose. La vita difficile di Maria Maddalena le ha rubato la sua bellezza, o almeno così lui ci fa credere.